buongiorno buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi dice dottore un professionista dell'ipnosi un signore che ha fatto tanti corsi di ipnosi il quale mi dice dottore ma io lo so conosco faccio bla 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 senza aver mai provato un audio mp3 dcs del dottore claudio saracino per cui come fa a sapere scusatemi forse ho sbagliato o forse no non lo so